Ciao a tutti, sono Martina della Samovar Viaggi. Come sappiamo, le navi da crociera sono ormai delle vere e proprie città sul mare. Ma come facciamo a conoscere queste città? Beh, è semplicissimo grazie alla nuova tecnologia. Adesso vi introdurrò il monitor touchscreen che è presente a bordo di Costa Smeralda. Utilizzarlo è semplicissimo. Vi faccio vedere alcune delle immagini. Come potete vedere possiamo cliccare su varie sezioni, come per esempio oggi a bordo, la nave, escursioni, informazioni inutili, ship locator, le mie spese, ristoranti e my agenda. Se voglio vedere il daily program è semplicissimo. Basta cliccare su oggi a bordo e posso vedere durante le varie fasce orarie quale attività sono disponibili. Per avere maggiori dettagli si può semplicemente cliccare su una. C'è una breve descrizione. Per esempio vi faccio vedere altre sezioni disponibili. Se voglio conoscere qualcosa in più sulla nave, clicco su nave. Posso cercare una cabina, se non la trovo. Inserire il numero di cabina. Posso inoltre prenotare dei ristoranti, avere informazioni sui pacchetti di benessere oppure sui negozi. Posso avere informazioni anche sulle escursioni o prenotare un'escursione. Avvicinando la nostra Costa Card si possono vedere tutte le escursioni disponibili per ogni città. Posso inoltre vedere le mie spese. Io ho già passato la mia Costa Card quindi vedo le mie spese. Posso vedere anche le escursioni che ho già prenotato cliccando su My Agenda. Messina, Cintarecchia, Salone. Posso anche vedere in quale parte d'Italia mi trovo cliccando su Ship Locator. Insomma, come avete potuto vedere il monitor touchscreen ci può dire tutto della nostra nave. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!